Siamo tornati qui sul ponte di Campodino, opera inaugurata lo scorso 8 agosto dopo ben tre anni e mezzo dalla frana che fece crollare il ponte. Dicevamo opera inaugurata però non finita, c'è il consigliere di Torano Nuovo dell'opposizione Luca Frangioni che ha delle cose da puntualizzare. Noi chiediamo a che punto è la progettazione per terminare questi lavori e soprattutto se c'è copertura finanziaria perché noi eravamo rimasti a qualche mese fa in cui c'è stato un piacevole botta risposta con il delegato dei lavori pubblici Mauro Scarpantonio che affermava ci fosse sia la copertura finanziaria che comunque nel giro di qualche settimana avrebbe comunque provveduto la provincia a sistemare quanto fino ad ora non fatto. Ad oggi sono passati più di tre mesi e tutto rimane così, quindi un'opera comunque aperta a metà, aperta a singhiozzo come dicevamo prima, un'opera aperta con opere ancora non terminate. Se vedete ancora ci sono le destice gialle che indicano che è ancora un'opera in cantiere. Ci sono delle grosse difficoltà anche per la sicurezza, per la viabilità. Nei giorni scorsi abbiamo avuto molta nebbia e quindi la piccola frana, la frana che si è comunque creata, crea comunque degli scompensi anche alla circolazione e soprattutto alla carreggiata. Ad oggi nessuno è provveduto nemmeno a sistemare, ad indicare questa frana in maniera visibile soprattutto di notte. Abbiamo sollevato mesi fa, che comunque mancavano, visto quello che ci avevano detto gli uffici provinciali, dei lavori, delle opere, tra cui la regimentazione delle acque. Ad oggi siamo qui sul ponte e vediamo che questi lavori non solo non sono stati fatti, ma comunque il terreno continua a scivolare perché mancano dei sostegni anche di cemento sulla struttura sottostante al ponte. La paura è che adesso ricominci un po' a piovere e che questa frana possa allargarsi? Sì, ma la paura più grande è quella comunque di salvaguardare chi comunque passa tutti i giorni sul ponte, perché dopo quello che è successo negli anni passati non vorremmo che comunque ci fossero ulteriori problemi. Questo ponte è stato fatto, progettato e realizzato grazie a dei fondi FAS, un ponte che comunque negli anni è stato purtroppo bistrattato anche dai governi che sono succeduti. Perché? Perché qui è stato dichiarato lo stato di calamità. Lo stato di calamità prevedeva che nessuno potesse mettere le mani a livello pratico sul ponte senza che comunque avesse l'autorizzazione dal governo. Negli ultimi anni sono stati tre governi che sono succeduti e quindi questo ha provocato le lungaggini. Probabilmente chi ha inaugurato il ponte avrebbe dovuto dirlo ai cittadini, perché chi ha inaugurato il ponte non è la stessa persona che lo ha progettato, ha individuato il bando pubblico e quindi con minimo di coerenza bisognava averla. Ad oggi, nonostante questo, rimaniamo con un'opera incompleta. Noi le ultime notizie che abbiamo avuto dalla provincia è che mancava una copertura finanziaria e che stavano trovando, e noi ce lo auguriamo presto, una copertura finanziaria adeguata.